Parliamo con Andrea Casbarroni, in assoluto il miglior giocatore della partita. Sono contento, oggi finalmente stavo bene, sono riuscito a fare una partita importante, ma la cosa che mi dà più gioia sono questi tre punti che sono importantissimi per la lotta a salvezza. Il primo tempo ha fatto veramente bene, tu hai sfornato assist, credo di averne contati almeno sei, per i compagni, lì è arrivato forse un solo gol. Sì, probabilmente potevamo sfruttare meglio, cioè chiuderla, anche se poi bisogna dire che ci sono gli avversari, la BNF è una squadra di tutto rispetto, quindi diciamo che è stata una partita dove siamo anche per provare una degli altri, complicati un po' le cose, poi è arrivato il 3-2 e è stato ancora più bello. Sicuramente, poi prima del 3-2 c'è stato il 2-0, tua fantastica punizione. Sì, niente, hai fatto il tuo? Ho calciato, è andata bene. Si è lamentato un po' in conferenza stampa a mister Albe perché tutti noi giornalisti l'abbiamo criticato per averti tolto dal campo? No, ma io l'ha fatto per il mio bene, no, ero stanco in effetti, poi lui ci eravamo detti tra questo tempo che gli facevo un cenno, lui mi ha chiesto, io ho detto altri 10 minuti perché iniziavo a avere poi fastidio e non sarei più stato utile, quindi ha fatto benissimo. Con questa vittoria, insomma, la salvezza è vicinissima, quasi raggiunta. Sì, finché non c'è la matematica, dai, però è un bel passino avanti.